Ciao gente, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, lo so, oggi è uscito a differente come orario del video ma è successo tutto un po' un casino, quindi non ho potuto registrare ieri sera, registro oggi, il video esce stasera scusatemi ancora tanto, domani esce un altro video alle 14, quello è confermato, l'ho già sistemato, l'ho già programmato ma di cosa parliamo oggi? Parliamo di macOS Monterrey, finalmente vi ho già portato lunedì il video su tutte le novità e oggi, scusate i capelli volevo portarvi un video sulla mia, non una reaction perché alla fine lo sto usando già da qualche giorno ma sulle mie prime impressioni, la recensione, non so se uscirà, in caso se uscirà, uscirà penso settimana prossima me lo voglio sistemare per bene, anche se è un aggiornamento comunque minore, il mio primo grande aggiornamento di macOS, tra l'altro però mi voglio provare quelle 2, 3, 4, 5 funzioni che hanno introdotto, purtroppo non ho un iPad quindi neanche in beta mi posso provare in Universal Control vorrei ringraziare il tizio in moto che passa qui sotto ogni volta che registro allora, prima di tutto, arriva anche qua Full Immersion cosa non da sottovalutare, perché? perché mi si sincronizzano le notifiche di Telegram, di Whatsapp, di tutto e è molto più comodo, io quando monto, ora mi sono fatto la mia per il montaggio ciò mi arrivano solo determinate notifiche, anche sul Mac sembra banale ma non lo è, perché solo io, ma penso c'è un botto di notifiche sul Mac che le abilità di notifiche sul Mac? ora dite, ma voglio i nomi, voglio i nomi devo fare nomi e cognomi da Matteo Salvini e Giorgia Meloni lo stanno ripetendo dalla scorsa notte per tutte queste ore non è assolutamente così poi altra cosa non da sottovalutare, le note rapide scorrendo infatti in un angolo partendo dagli angoli attivi se lo sistemate su sulle preferenze di sistema troviamo questa funzione che è comunissima prendendo command e andando su uno degli angoli che stabilite cioè sull'angolo che stabilite vi partirà una nota rapida simile a quello su iPad però qui potete personalizzarvi l'angolo e a me questo sembra banale ma non lo è poi io il giorno stavo guardando un video su cos'era, non mi ricordo sull'AirPods 3 perché sto scrivendo il video sull'AirPods 3 me lo son fatto tutto con le note rapide praticamente e si, fra un po' esce perché voglio vendere le mie che sono queste qua da 149 che Apple vende ancora fortunatamente perché le consiglio a tutti però l'ho presa in agosto perché le mie altre le ho perse però scusa se queste le rivendo io mi riprendo le 3 ma perché mi son messo per l'AirPods? questo Monterail i nuovi sfondi sono belli hanno messo quelli dei Mac e quelli dei nuovi MacBook però mi piacciono sì sicuramente gli sfondi non sono una bella novità però sì ci stanno cioè rega vi sto a parlare di sfondi ah FaceTime FaceTime per esempio ho 5 amici che hanno iPhone con chi lo uso FaceTime dai su non diciamoci bambi per favore per favore Final Cut va molto bene tutti i lavori più esanti funzionano bene però ogni tanto si bagga tutto e io non so come mai mi dà noia mi dà noia quindi tanto quando lo chiudete sai ti chiudo il MacBook finito di fare le due cose lo chiudi un attimo lo mandi stop e ogni tanto capita che non si spegna il display ma cosa? ma sei serio? mi sembra un po' esagerato però devo farvi due pregi devo darvi due pregi perché da quando ho fatto il giocamento mi va molto meglio sia il Bluetooth con le AirPods sia il Wi-Fi in generale anche questa cosa non da sottovalutare bravo Apple e anche l'Hotspot cioè è come se fosse stato migliorato in qualche modo ora non so cosa abbiamo fatto però ci sta cioè ci sta quindi signori oggi video è un po' barren perché non lo so tanto vi volevo far notare una cosa io avrei sempre voluto il Mac grigio si verrà però c'è l'argento e vi vorrei far notare che lo sfondo di quello della scatola d'argento ha gli stessi colori di come si chiama dello sfondo di Monterrey cioè vedi questo è stile certo non mi ricordo dove ho messo i miei adesivi signori lasciate la il consaluto dal mio Macbook Pro e da me quindi e Grazie.